bentornati ad un nuovo episodio di gong il podcast di round two anche oggi una notizia d'attualità e poi invece qualche considerazione su un prodotto uscito proprio in questi giorni partiamo dalla prima non abituatevi che non ci sono né così tante notizie né così tanti giochi pubblicati li stiamo un po' coccolando il mercato in realtà ce ne dà l'occasione partiamo dicevo dall'attualità e parliamo di un rinvio ma un rinvio parziale perché stiamo parlando di Hogwarts Legacy che in versione pc e next gen uscirà come promesso il 10 di febbraio ma c'è stato un rinvio delle versioni old gen e dell'edizione switch sì è una notizia che onestamente mi ha abbastanza colto di sorpresa tra l'altro curiosità proprio nel pomeriggio sarà verrà trasmesso un nuovo aggiornamento su Hogwarts Legacy con quegli appuntamenti di comunicazione che abbiamo già visto e seguito in passato dove in realtà secondo me in maniera anche molto efficace hanno raccontato il prodotto oltre a questo aggiornamento che nel caso potete seguire in diretta con noi questa sera alle 19 su twitch se vi va se fate ancora in tempo appunto arriva questa notizia che onestamente non mi sarei aspettato in particolare le versioni playstation 4 xbox one verranno pubblicate il 4 di aprile e invece la versione nintendo switch il 25 di luglio si tratta di un tempo non banale nel senso che tra il 10 di febbraio che è il momento in cui verrà pubblicata la versione next gen diciamo del gioco e il 25 luglio di switch passano diversi mesi loro hanno dichiarato che ovviamente vogliono fare in modo di assicurare la migliore esperienza di gioco possibile attraverso piattaforme diverse che quindi richiedono tempi di ottimizzazione diversi fra tu come come l'hai vissuta questa cosa allora è un altro passettino nella direzione se non di un abbandono ma di una marginalizzazione delle console di vecchia generazione warner fra l'altro l'aveva già fatto anche con gotham knights che non è proprio uscito in versione old gen e quindi questo mi rende anche abbastanza contento da un certo punto di vista d'altro canto ovviamente con un prodotto come Hogwarts legacy di grande richiamo non puoi perderti il traino ma neanche insomma il pubblico la base installata sia di ps4 che di ps4 esatto che di switch tant'è che anomalo è anche il fatto che con un titolo comunque open world così complesso abbiano deciso di puntare anche su quella piattaforma non è assolutamente automatico anzi non a caso il rinvio per quanto riguarda la piattaforma hybrid a nintendo è quello più sensibile nel senso che al di là di tutto noi il gioco non abbiamo ancora visto di persona però se ci immaginiamo una conversione di un open world di quel tipo per una piattaforma come nintendo switch è tutto fuorché automatico come processo anzi e comunque è un rinvio che testimonia di fatto probabilmente anche un po di difficoltà nell'adattare dei prodotti che evidentemente girano meglio su piattaforme di nuova generazione per mille motivi tempi di caricamento gestione appunto accesso alle memorie velocità di accesso alle memorie e via dicendo evidentemente per far girare questi prodotti su piattaforme di vecchia generazione anche se le architetture poi di playstation 4 playstation 5 e così delle xbox sono in continuità serve più tempo per ottimizzare e sono contento comunque che abbiano che si siano resi conto che probabilmente non ce l'avevano questo tempo per conservare la pubblicazione il a febbraio anche per le altre piattaforme e che si siano presi appunto quei mesi che servono io personalmente non interpreto neppure sai il rinvio di di switch come servono cinque mesi in più per adattare su quella piattaforma io penso che una volta pubblicata la day one patch o comunque insomma le hotfix a febbraio si dedicheranno a le versioni old gen di playstation xbox e una volta pubblicate quelle si sposteranno ancora ulteriormente sulla piattaforma c'è solo un percorso a step progressivi chiaramente la più difficile la sfida più grande è quella di switch quindi la tieni per ultima però si ha comunque senso da capire anche se si affiancheranno cosa che io credo possibile soprattutto per il porting appunto sulla console della grande n a qualche team esterno pensiamo che è successo in passato tante volte vedremo come andrà quello che io voglio aggiungere è da una parte una curiosità ovvero che come dicevamo stamattina in live c'è proprio l'aneddoto particolare del fatto che Hogwarts legacy in versione ps5 xbox series esce nell'anno fiscale corrente e invece di fatto le versioni old gen che però paradossalmente sono quelle che venderanno di più perché chiaramente è un gioco che punta al bersaglio grosso mettiamola così vanno a finire nell'anno fiscale successivo interessante il parallelismo anche che avevi fatto tu con gotham knights secondo me in realtà valido ma gotham knights evidentemente non ce la facevano adattarlo e soprattutto probabilmente avrebbero perso troppo tempo e soprattutto gotham knights non è Hogwarts legacy posso potenziale clamoroso posso essere anche un po cattivo vai vai certo probabilmente diciamo che qui hanno anche consapevolezza del fatto che Hogwarts legacy sembra è poi tutto da verificare un prodotto di grande impatto e quindi probabilmente l'uscita a febbraio sulle piattaforme di nuova generazione può anche per loro essere un appuntamento di comunicazione nel senso che se c'è tanto buzz mediatico e tanto entusiasmo da parte del pubblico chi ha solo playstation 4 conserva l'entusiasmo gotham knight probabilmente avrebbe fatto l'effetto pesce cioè già non è particolarmente brillante magari tentenna un po' anche sulle piattaforme di nuova generazione dopo sei mesi e quindi a quel punto invece che lavorarci forse meglio uscire sulle piattaforme in cui gira decentemente e poi stop ultima cosa prima di cambiare argomento aggiungo che secondo me comunque nella sfiga del rinvio che non viene mai vissuta in maniera positiva dal mercato dai dagli appassionati eccetera eccetera si tratta secondo me comunque di una scelta onorevole nel senso che l'arrivare ovunque contemporaneamente è stato forse davvero uno degli elementi che hanno massacrato cyberpunk e ha messo in difficoltà tant'elte produzioni la scelta consapevole certo forse un po' ritardataria perché siamo veramente a due mesi della pubblicazione di dire non ce la facciamo prendiamoci un pochino più di tempo arriva davvero vicino al traguardo però secondo me è comunque da lodare perché è meglio dedicarsi a delle versioni ottimizzate appunto come si deve che arrivano un po' più in là che non rispettare un day one arrivando però con dei giochi impresentabili d'accordissimo con te guarda mi permetto un'altra nota di chiusura riprendendo il discorso che facevo sul fatto che ormai ci stiamo forse un pochino allontanando distanziando dalla vecchia generazione di console lo dimostra anche non so se abbiamo parlato su gong non mi ricordo il fatto che per esempio il dlc di horizon sia solo su ps5 non ne abbiamo mai parlato però è evidente che un po tutto il mercato vada nella direzione di considerare finalmente playstation 5 e xbox serie x e s lo standard attuale che il 2023 era anche ora esatto cioè al netto di difficoltà di reperire le macchine certo e anche al netto magari di qualche illustre titolo che invece continuerà a essere sì sì diciamo che diventa più l'eccezione che non lo standard ecco meno male è anche l'ora ci sta nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece darvi le nostre impressioni preliminari su un titolo che è uscito nella giornata di ieri di cui abbiamo in realtà parlato anche al ritorno dalla gamescom un titolo che è incluso nel catalogo del game pass high on life sviluppato da squanch games che è il team che aveva già pubblicato prima su vr e poi anche in formato classico trover saves the universe lo ribadisco a chiare lettere impressioni preliminari ci abbiamo giocato circa tre orette ci hai giocato ci ho giocato mezz'ora alla gamescom quindi insomma non sono le opinioni definitive abbiamo visto che poi andando avanti nei giochi si può sempre anche cambiare idea callisto protocol mi brucia ancora devo dire la verità però in questo caso c'è anche da dire che magari grazie a queste impressioni vi possiamo incuriosire un po e se avete il game pass potrebbe non essere male anche scaricarlo questo prodotto lo vuoi introdurre un po tu sì è un nuovo gioco di justy rolland che in realtà uno dei fondatori del team stesso lui è voce e mente creativa di rick and morti che sapete essere una serie molto particolare di grande successo negli ultimi anni ha visto diverse stagioni e recupera da rick and morti come già faceva trover saves the universe questa idea di una fantascienza molto esasperata con un umorismo cinico con un umorismo tiratissimo sboccato per certi versi anche davvero a cavallo tra gli anni 90 ai primissimi anni 2000 sicuramente fuori dal tempo è un umorismo che mescola secondo me in maniera eccezionale ma io sono bimbo marco quindi chi più di me può dire queste cose il basso corporeo le cose più veramente stupide di scoregge oggetti nel culo a riflessioni non così stupidine sulla fisica quantistica il multiverso a volte anche feroci critiche sociali eccetera eccetera però ammantate dietro questa parentesi di stupidera compiaciuta e divertita che diverte alcuni e sicuramente schifa ma anche secondo me fa un po proprio incazzare altri tant'è che tra l'altro noi alla gamescom abbiamo incontrato gli sviluppatori gli avevamo fatti complimenti mentre gli consegnavamo uno dei nostri award tre ne abbiamo consegnati e secondo me comunque tre erano tutti a fuoco anche col senno di poi uno a scorn uno a pentiment e una questa your life che resta da verificare ma secondo me gli altri due grandi sorprese anche un po certezze di quest'anno e loro ci avevano detto tutto c'è ridendo io avevo detto complimenti anche per il fatto di scegliere di fare un gioco del genere oggi cioè l'umorismo lì è un coraggio doppio secondo me e loro ci hanno detto beh ma fa niente cioè noi fa ridere queste cose se vi piacciono bene se non piacciono vaffanculo ecco devo dire che quell'umorismo lì fa ridere molto anche a me e è un po quello che tiene in piedi la produzione perché il gioco di fatto è uno sparatutto in prima persona con un po di esplorazione ambientale molto lineare nello svolgimento però devo ammettere che se dovessi analizzare proprio il gameplay in sé per sé lo considererei più che modesto perché proprio insomma il feedback dei colpi non è particolarmente affascinante si vede che comunque sia il gameplay in queste prime tre ore di gioco si sta ancora componendo perché ancora non ci sono armi secondarie che arriveranno si comincia con una mobilità ridotta e poi si ottiene invece la possibilità di eseguire una schivata con uno strafe laterale quindi anche l'agganciarsi alle piattaforme con il coltello linguacciuto bravo sì 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 io dico non so cosa ho provato perché secondo me era l'inizio ma magari non era la versione definitiva quello che avevo visto io magari lo considererei funzionale bravo bravo non era mediocre non faceva schifo no non fa però non era nemmeno particolarmente esaltante cioè faceva il suo grande compitino nell'ottica di però un gioco che esattamente come pentiment e scorn cioè vuole essere alto il suo carattere ce l'ha altrove ce l'ha nella scrittura e anche nella capacità di mettere in piedi delle scene veramente surreali cioè parla dell'inizio comincia con intanto un i titoli di testa che sono di un altro gioco che in realtà è un boomer shooter che il protagonista del c'è uno shooter alla doom che il protagonista del del gioco poi sta giocando sul suo computer quindi il gioco nel gioco il gioco nel gioco appena si esce diciamo da questo loop troviamo accanto a noi la sorella del protagonista o della protagonista perché poi appunto bisogna scegliere l'avatar che visto che i genitori sono in giro ci propone di farci una striscia di cocaina posizionata collocata su uno specchio che sarà poi esattamente la finestra di selezione dell'avatar come se il protagonista avvicinandosi a questo specchio vedesse la propria faccia e c'è anche una cosa bellissima proprio a livello di dettaglio quando tu cambi la l'avatar la sorella ti dice wow che ti sta succedendo alla faccia mamma mia che trip cioè mamma mia esatto è perfetto due minuti dopo c'è un attacco alieno alla terra e gli alieni hanno l'obiettivo non tanto di invaderci per sottomettere la razza umana ma per fumarsela high on life perché per questi alieni gli umani sono una sorta di torcione incredibile da fumare che li manda in botta è veramente traducibile come tipo strafatto di vita sì sì esatto sottinteso umana sì è un gioco folle è un gioco che come sottolineavamo prima secondo me fa il suo dal punto di vista ludico da fps molto canonico sì con però anche qualche concessione c'è le armi parlanti delle idee così comunque sopra le righe ma in realtà tu te lo giochi per sentirti raccontare delle stronzate nel senso che mentre si sviluppa l'avventura stessa i personaggi soprattutto queste armi parlanti continuano a dire cose a interagire tra di loro ma anche non so le porte in un gioco hanno degli switch che litigano tra di loro ci sono delle interazioni assurde è un gioco che richiede una conoscenza alta della lingua inglese per essere goduto al 100 per cento perché hai sottotitoli ma funziona se le battute le cogli mentre stai sparando non mentre stai leggendo sì sì non puoi leggere mentre fai cose perché è un action no sì 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 in certi momenti l'azione è molto ritmata e nonostante il ritmo dell'azione c'è magari la pistola che continua a parlarti a fare battute e se non le cogli ovviamente ti perdi molto del divertimento voglio citare altre cose cioè la prima volta che ti metti la tuta non c'hai la licenza d'uso del software della tuta e quindi ti si riempie tutta di spam di pop up che tu devi continuare a chiudere premendo un tasto oppure ci sono insomma dei testi in game che in realtà hanno la forma di un thread di un forum in cui ci sono vari utenti con diverse personalità fra cui dei troll spintissimi che non leggono e sono lì solo per sfottere tutti gli altri è proprio anche degli anni veramente figlio degli anni 90 sì 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 2000 2000 sì sì degli anni 2000 e quindi insomma magari non aspetta devi citarmi una cosa importante io cito il coltello quando lo prendi la prima volta ti dice sì dai apriamo un buco del culo extra ai nemici ma anche il fatto che ci sia un film dentro da guardare è vero a un certo punto e questa situazione ricorda un po' per i vecchi conoscitori del mercato quella del primo The Darkness tu entri in casa che ti è stata diciamo occupata in maniera coatta da un alieno un po' esuberante e lui è sul divano e sta guardando un film e tu puoi metterti lì e guardarlo tutto e il film è Temmy and the Teenage T-Rex che è un film esistente cioè l'apoteosi del trash degli anni 90 con Denise Richards e cioè è lì non è che tu fai play semplicemente ti siedi sul divano nel gioco e stai lì fermo per 90 minuti a guardarti il film lo puoi fare non si sblocca neanche un trofeo attenzione comunque sia appunto magari non è il tipo di umorismo che fa per voi se però invece conoscete appunto Rick e Morty ma anche magari qualche altro esempio guarda io ti voglio citare una cosa e proprio per il colore il tema è per raccontarlo magari ai nostri amici meno avvezzi a questa cosa direi un futurama sotto acidi bravo comunque la descrizione anche delle razze aliene robot città super chiassosa del futuro è quella lì sì quindi se questa cosa vi stuzzica e magari avete il game pass lo trovate sia su pc che su xbox e potrebbe essere un'occasione per scoprire un gioco che almeno ha un carattere tutto suo gioco family per natale perfetto assolutamente con i bambini grazie mille per averci seguiti in questa puntata di gong con l'attualità videoludica noi torniamo domani magari proprio raccontandovi le novità di Hogwarts Legacy se lo showcase di oggi sarà foriero di dettagli interessanti altrimenti vedremo un po' ricordatevi che se volete supportarci potete sempre abbonarvi grazie